Cosa è questa barriera? E' la barriera creata da Janemba Ok, qualche informazione in più? Questa barriera riesce ad isolare da Enma e strapparlo, cioè strappare da lui il possesso di tutte le regole dell'altro mondo e infatti come conseguenza di questa barriera tutti i morti tornano in vita sulla terra Non è una sfera dimensionale? E' una barriera di Janemba. Quello che è fuori non può interagire con quello che è dentro e viceversa. Questa barriera di Janemba. Questa barriera di Janemba. Questa barriera di Janemba. Questa barriera di Janemba.